Sul trenino di Sirmione Velocità media 0,6 km orari Evelin ti sto facendo la foto all'aria Affrontiamo la salita Ce la farà? Sì, è un treno Sì, ce la farà, spero Si sta fermando Bisogna scendere a spingere Ruggero, bisogna spingere Io non scendo Tu non scendi? Sì, non scendo Non scendo Grazie.